L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ne ha fatta una delle sue. Infatti, ultimamente costui ha apposto il suo autografo nel seno di una bellissima cameriera. Molto sexy, molto elegante, piacevole e conturbante. Si trovava infatti in un pub di Riova, stava distribuendo delle pizze ai clienti. Così ha deciso di compiere questo gesto, che non è passato inosservato, si è avvicinato infatti a questa cameriera, o meglio, lei si è venuta a lui per chiedergli un autografo. Nonostante questa richiesta, l'uomo non si è tirato indietro, ha voluto redigere proprio con la sua mano l'autografo col sul petto della giovane ragazza, che tra l'altro è anche abbastanza appropiace, la quale lo ha letteralmente ringraziato. Vi ricordo che proprio Donald Trump si schiererà nelle elezioni che ci saranno tra un anno e il 2024 contro Joe Biden, attuale presidente americano. Chissà tra due chi vincerà, anche se molti sostengono che sarà proprio Donald Trump l'ex-presidente a vincere le elezioni. E quindi ritornerebbe a essere il capo dello Stato americano. Iscrivetevi un commentato e ciò di realizzare un ruolo di verità.